e la seconda vittoria di questo campionato dalla Zanna c'era bisogno assolutamente di sbloccarsi sì, volevamo iniziare l'anno con il migliore dei modi e ci siamo riusciti la cosa è di continuare a fare il gruppo, i risultati quest'anno non ci interessano però giustamente è una vittoria che dà morale alla squadra e noi siamo una squadra che abbiamo bisogno di vittorie per migliorarci e per tutto quanto, anche per un po' di autostima dei ragazzi che sono tutti giovani quindi una nota positiva in questo inizio dell'anno Dalla Zanna, quest'anno ho un'eridità molto importante, non solo quella di giocatore ma si è aggiunta anche il ruolo di tecnico sì, è venuto a mancare il tecnico, mi sono proposto, ho dato la mia lunga esperienza, ormai sono dieci anni che faccio la caccia 5 e quindi ho dato l'idea mia del caccia 5 ai ragazzi ho un gruppo di 19 persone, di cui 16-17 sempre presenti e questa è una cosa molto positiva anche perché non avendo una buona classifica i ragazzi vengono comunque tutti ad allenarsi e sono ragazzi che si impegnano tutti gli allenamenti anche in partita ovviamente manca un po' di esperienza perché sono tutti i giorni, lo ripeto però piano piano arriverà anche questo è un progetto questo che durerà anni quindi questo è il primo e andiamo avanti così Ecco, dalla Zanna ci trasferiamo anche comunque al tuo vice se così possiamo definirlo anche lui ha la prima esperienza su una panchina nel cancio a 5 provinciale Gianluca, allora questa esperienza come sta andando? Ma come prima esperienza personalmente molto positiva positiva perché, ripeto, siamo partiti senza grandi obiettivi gli unici obiettivi, quelli che ha detto il mister, erano gli unici di creare un gruppo, di creare una squadra con tanti ragazzi giovani con tanti ragazzi che venissero agli allenamenti con la sola voglia di allenarsi di divertirsi e poi se veniva fuori qualche risultato ben venga Bene, quindi a Borgoflora c'è l'intenzione di ripartire con un progetto riportare su soprattutto il settore giovanile Stiamo lavorando per il settore giovanile, stiamo valutando, dobbiamo vedere ancora dei dettagli non so se l'anno prossimo faremo il settore giovanile sicuramente l'anno prossimo rientreremo con la prima squadra che è questa che avete visto con degli obiettivi diversi, diversi perché molti di questi ragazzi sono cresciuti dal mese di agosto che abbiamo iniziato la preparazione sono cresciuti sia atleticamente, tatticamente, tecnicamente tanti hanno imparato proprio a giocare a calcio, a calcio a 5 tanti che avevano delle mancanze notevoli e piano piano le hanno assimilate quindi sono sicuro che l'anno prossimo potremmo fare un campionato molto più dignitoso quindi potremo lottare, lottare davvero con squadre che contano Bene, prima di lasciare anche dalla Zanna perché fuori fa molto freddo lui tra l'altro è anche sudato per la gara un'ultima battuta, che cosa serve a questo punto, questa vittoria, quanto può valere? Vale per il morale, per iniziare bene l'anno e poi vediamo il campionato è lungo, i play-off non abbiamo obiettivi però i play-off includono 9 squadre la prima che sale e gli altri 8 che vanno a giocarsela noi ci siamo una squadra che i play-off già l'abbiamo fatti e tra l'altro anche vinti ecco perché lo dico, lo dico con il sorriso però non è il nostro obiettivo, lo ripeto però sono vicini, ci proviamo ci proviamo, ce la giochiamo visto che abbiamo iniziato bene, l'umore è alto vediamo quello che succede con qualche aiutino il prossimo anno, qualche giocatore in più vediamo un attimo, aggiustiamo qualcosa se non è questo l'anno prossimo grazie a tutti grazie a tutti